Allora ragazzi, qui è Janks, benvenuti in questo nuovo video Un video un po' diverso dagli altri, in quanto ora vedrete Allora, tre giorni fa Pommage, anzi no, ieri credo Pommage ha caricato un video su YouTube, no? Tutto bello, figo, come fa sempre Carica un video in cui parte dal minuto di World War 2 Cerca una partita, dominio, prima cosa gli trova la partita a ping minore di 50ms Entra in partita su Skidro, partita non ancora iniziata, la sottolineare, no? Partita non ancora iniziata, entra in partita e trova delle persone che secondo me Se giocassero con il joystick così, premono il tasto con il minuto, sparano col mento Fanno fuori più persone Ora, siamo io e Chia insieme, proviamo All'attacco di punta, aspettate E si prova a cercare una partita su domenica, a vedere cosa troviamo Allora, intanto da notare, ora non mi fa vedere il ping A quanto mi sa vale partita con il ping perché sono in partita con Chia Però, tra poco, vedete Intanto il tempo che ci metto per trovare una partita Questa è la differenza tra la connessione canadese, americana, inglese, da quella italiana Fusione, è entrato su High Rise, partita già iniziata Ah guardate la merda che c'è dentro, ah non c'è Anzi no, inizia ora, guardate il buco di culo C'è, rotti, eh hate marker Per forza che ti fanno lo spam, per forza, c'hanno 12 di connessione Ehm I buffi, cosa che panaggia se insogna Ah, questo che cazzo mi campra su linkit, mamma mia, lo vedi, lo vedi? Lo faccio solo Ora faccio lo spam di rap, se no, uno entra e si aspetta che neascano di là Non nasce mezzo Il mezzo, campera lì dietro perché se no dove fai le vacce? Quell'altro invade, la gente che invade poi mai non la trova, poverino Eh, sono andata la cazzo fa 5-11 Ora lui dice, vabbè, stai facendo cacare Giocate voi questa connessione con un nervoso corpo madonna che ti mangia le palle Con l'etro, non c'ho come ho fatto affare con l'atrio Ma dove? Pillola, le pillole, le vacce, non le trova Il giorno che metto la 100 mega, madonna, mi fai questa mia Io riprendo Davide, ma la connessione non è la buona Ho tre Oh 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 Ah 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 Divertiti te Madonna Ora Oh Cosa Ora Se questo Dicite LENZO ARTOMA Dove? Ora poi l'altro Mamma mia il pic che ritardo meno proprio E' un po' più divertente Ma sta scherzando Non è male l'ho registrata Gli ho sparato 14 polpi addosso La collatera l'era Ora ne faccio un'altra Ne faccio un'altra ripartendo dal menu La ricerco la partita Ora anche se esce Subbase, Terminal, Cristobello Tutto non me ne fega nulla Fa cacare esci Davide La ricerco da dominio Ripartiamo Dominio Dominio Sarebano altri 6 giocatori Poca merda Tanto dicevano I buffi Commando Tanto per cambiare Quando avete tempo Vai Tiriamo C uguale Uguale 3 Che sarebbe un gran cazzone Giurato a continuare Dove sei? Marco E' un po' E io Ma porca madonna Ma Lui è di che non lo c'hanno tutti quattro E noi bisogna avere tre Come i cazzoni di marrocchini Ma se che i marrocchini c'hanno almeno 4 Ce l'hanno di sicuro Ti scommetto Madonna La bocca E poi sto giocando da incazzato Quindi ti ho fatto conto che non ci piglio Se mi calmo forse li prendo Ma non posso calmarmi Perché non puoi calmarti giocando Contro i Gli unpa unpa Ti battono Cioè Va bene Si è lovato? Ah si è spostato di qualche metro Avaporato aveva no? La gente dice Sei scarso Le manchi Le manchi Sì Porco Dio Non puoi darmi a mirare Non puoi a mirare E' lento E' niente di monosfatto Mi dice oso Mi dice Cosa c'ha? Piuso la pensione Cosa fa? Cosa fa? Oh Riuscite Oh One shot Una volta ogni mese Dammelo one shot Perché? Ma non vedete il ritardo? Ma io Per essere mi accertato Dall'uncidio nemico 10 secondi Gli hanno passato Spara il colpo Non è che posso girare la mila Per andare a cercare un altro No Ti puoi aspettare Che quello sei morto Poi dice Non fai le feed Guarda questi Mi nascono a subire Ma è logico La guardo Sei meglio te Guardi è Guardi se lo ha sparato Meno male ne resisto Meno male ne resisto Meno male Guarda Farei vedere lo ha sparato Io C'era la sagoma del mio mino A sinistra Forza ha preso Ha scorreggiato lo mino Forza ha preso Nella scorreggia È presa fuoco E il fuoco mi ha distrutto Proprio mi ha ucciso Ma provarti eh Non mi ha preso Davide non mi prendono Mi uccidono Davide non mi prendono Ma che fai schifo Ma che sei un cane Non sai mirare Non sai fare i quisco Non sai fare i quisco Trovi gente che ha 4 di condizione Te hai 3 Te con 60 di ping Loro con 12 Va bene Ma è normale Non è il tempo di uscire Cosa hanno chiamato Cazzo Se Ho visto un film A colori Aspetta Intanto ti faccio una Divelle scarie E poi guarda Oddio Oddio No Si è visto Se letta l'etichetta Nello stinger Ho cambiato l'arma Se letta l'etichetta Nello stinger Ce l'ha scritto anche il prezzo Su nome Chi sei? Cosa vuoi? Cosa cazzo? Mandi messaggi Questo è il mio punto Ero che il video Mi si è preoccupato Publicate po' Cosa devo dire Entri in partita Due partite Tutte e due Iniziate Da High Riser Iniziata Ora Lì per lì Facevo lo spawn Iniziale Westland Era In fondo Cioè Inuta partita Uno entra Cerchi le partite Le trovi già iniziate Con la gente Che c'ha Tutti quattro Di connessione Te tre Loro colpinga a 12 Te colpinga a 60 70 80 Loro con i puffi Con una squadra Che usa l'antisommossa Un altro che usa Commando principiante Maratona Perché se tanto non c'è Uno che tira i puffi L'accoltellatore folle Il trickshotaro Il cecchino camperato Sono un po' divertiti Sono due E questo è così Quando Pomage Rips Darkness Con la gente Ricercano le partite Trovano tutti i cecchini E non sono Sniperlobbi organizzati In interno Trovano uno Vedono Reps Vedono Darkness Vedono JF Vedono Pomage Vedono Spretti Cazzo è Spretti Cazzo è Pomage Diciamo Il cecchino A me lo ti aggiungono Questa È la merda Che c'è Sulla community Degli sniper Cioè Poi potete guardare Il montaggio di Rips E dire Cazzo È forte Vabbè È forte Rips Grazie al cazzo È sempre host Cioè La 900 MB In 30 partite È sempre host Vorrei vedere io Con la connessione sua Come faccio a non fare le clip Se sono un deficiente Sono Se sbaglio Le clip da host Poi c'è In più giochi contro i cecchini Te c'hai La connessione da host Ping a zero Perché tanto c'è il ping a zero Anche se non esiste C'hai 10 secondi Di vantaggio Sui nemici E te spari E loro ti guardano Nel tempo che ti sparano Ti gli hai già sparato 12 colpi addosso Eh Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivete Eh Don't worry Be happy Oh 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 Oh